Il 74% degli italiani crede che l'innovazione ambientale possa creare nuovi posti di lavoro. Il 79% ritiene che riciclare correttamente i rifiuti sia un vantaggio per l'ambiente e l'economia e ben l'88% pensa che la Circular Economy possa rappresentare un vantaggio concreto per il nostro paese. I dati emergono da una ricerca curata dall'Orient Consulting, presentata in occasione del forum QualEnergia, organizzato nella Sala del Tempio di Adriano a Roma da Lega Ambiente, in collaborazione con Cobat, Editoriale La Nuova Ecologia e Chioto Club. Un focus specifico è stato rivolto proprio a innovazione, lavoro ed economia circolare. Manca ancora totalmente una convinzione politica che faccia dell'economia circolare, dello sviluppo delle rinnovabili un asse strategico industriale innanzitutto per il paese. Fino a quando non ci sarà una convinzione da parte della politica che davvero questi sono temi innanzitutto economici, poi sicuramente anche ambientali, ma davvero possono disegnare un modello di sviluppo alternativo anche e soprattutto dal punto di vista economico, l'Italia sarà sempre in ritardo. E questo è un gran peccato perché noi abbiamo le competenze, la tecnologia e le imprese che ci potrebbero aiutare a essere leader in Europa. Bisogna ricordarsi che l'Italia, anche se pochi lo sanno, è il primo paese in Europa per il recupero di materie prime. Noi recuperiamo ogni anno 47 milioni di tonnellate di materie prime, vuoto per pieno, come si suol dire, dal vetro ai metalli, dalla plastica alla carta. La Germania, che è una nazione che ha un'economia che è quasi il doppio della nostra, ne recupera 43 milioni. E già solo questo ci fa risparmiare 17 milioni di tonnellate di petrolio all'anno e 60 milioni di tonnellate di CO2. Perché accade questo? Accade per i nostri cromosomi. Sì, perché noi siamo un paese povero di materie prime, quindi nel corso dei secoli siamo stati spinti a organizzare filiere che fossero più virtuose. Ormai la maggioranza degli italiani percepisce il concetto della circolarità dell'economia, probabilmente non è ancora del tutto informata su cosa vuol dire, tant'è vero che lo confonde ancora con il solo riciclaggio, mentre l'economia circolare è qualcosa di più. C'è una grande aspettativa, la stragrande maggioranza degli italiani ritiene che questo sia uno sbocco economico fondamentale per il nostro paese, tant'è vero che lo vedono come uno dei possibili sponde di ripresa. L'economia circolare è stato oggetto di un documento di posizionamento strategico che noi abbiamo messo in pubblicazione e che prossimamente verrà adottato dal Consiglio dei Ministri come documento ufficiale su cui impostare la strategia vera sull'economia circolare che sarà densa di iniziative calendarizzate e temporalizzate.